Approvata la prima variazione di bilancio 2022-2024, la proposta di legge passa a maggioranza con 23 voti a favore e 11 contrari, via libera anche agli interventi normativi collegati. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il bilancio d'esercizio 2020 della Fondazione Sistema Toscana, a maggioranza con 20 voti a favore e 16 voti contrari. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 della Regione, con 23 voti favorevoli e 11 voti contrari. Approvati tre emendamenti della Giunta per un contributo all'Università di Firenze per un progetto di studio, per un contributo per realizzazione di spazi di co-working e uno per un contributo straordinario a favore del Comune di Empoli per interventi alla rete idrica in località Molin Nuova e in via Pian Grande. Approvati anche con 23 voti favorevoli e 13 contrari, gli interventi normativi collegati alla prima variazione. Il Consiglio regionale ha approvato una manovra che comporta una variazione al bilancio di previsione che per il 2022 supera 900 mila euro, è di 450 mila euro sul 2023 e di oltre 4 milioni di euro per il 2024. Sul fronte delle entrate si registra un aggiustamento delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, in adeguamento alle indicazioni che vengono dalla legge di stabilità del Governo. Questo comporterà un maggior introito di circa 450 mila euro all'anno che andrà però a colpire i ceti medio-alti della popolazione. Per quanto riguarda le voci di spesa, i cambiamenti più importanti che vengono fatti con questa variazione riguardano i territori di alcune province. In particolar modo viene rimodulato un contributo di quasi 430 mila euro per il comune di Palazzuolo sul Segno per la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare i servizi sanitari. 250 mila euro sono destinate al comune di Buti e c'è uno stanziamento aggiuntivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro che viene destinata alla realizzazione del ponte sul fiume Serchio e che va ad unirsi ad uno stanziamento della provincia di Lucca, del Governo e della Regione che già ammontava quasi 20 milioni di euro. Si tratta della prima variazione al bilancio regionale a cui ne seguiranno presto delle altre destinate ad offrire risposte concrete al territorio toscano e a molte delle esigenze che la comunità con la fase di superamento della pandemia attende. A un voto positivo si conferma la volontà di Italia Viva di questo anno di non aumentare le tasse. Una battaglia politica che abbiamo condotto e anche in questa prima variazione la riconferma anche dell'addizionale IRPEF, degli scaglioni, così come delle tariffe per noi è un elemento importante. Non era il momento di aumentare le tasse siamo stati in grado di adeguare le nostre previsioni fiscali alle previsioni di riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale. Questo è positivo in delle settimane che sono molto dure per tutti i cittadini toscani come per tutta Italia dove il carbolletto diventa insostenibile. La riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale, l'assegno unico per la famiglia e la piccola forma di riduzione che proviamo a fare a livello regionale può cercare di alleviare quello che è un aggravio che altrimenti rischia di essere insostenibile per le famiglie toscane. Sonora bocciatura rispetto a una prima variazione che non condividiamo nella filosofia, nell'impostazione, nel contenuto. Siamo molto perplessi sia perché per la prima volta viene rotto il tabù dell'invarianza della pressione fiscale perché di poco ma qualcosa aumenta. E noi siamo preoccupati in prospettiva perché di fatto non abbiamo ancora rassicurazioni per quanto riguarda il debito in materia di sanità delle aziende sanitarie. Vorremmo avere rassicurazioni al riguardo al più presto. Anche perché l'adeguamento alle nuove aliquote IRPEF avrebbe potuto avvenire in forma diversa senza portare a un lieve ma pur effettivo aumento della pressione fiscale. Altre regioni hanno perseguito questa strada. In più certamente non rientra tra le priorità dei toscani quello di compensi dei manager delle partecipate della Toscana. Prima variazione di bilancio del 2022 e tutto ci saremmo aspettati in un periodo come questo, forse il periodo più drammatico degli ultimi 50 anni quando sembrava fossimo arrivati alla fine dei due anni terribili della pandemia. Arrivano i danni della guerra tra Russia e Ucraina. Il bilancio della regione toscana arriva in aula e cosa scopriamo? Che le preoccupazioni della regione sono da una parte aumentare le tasse e dall'altra garantire il raddoppio degli stipendi ai manager pubblici. Siamo allibiti da tutto questo. In realtà non si tratta di un aumento delle tasse. Peggio ancora, si tratta dell'aumento dell'aliquota regionale IRPEF puntata su chi guadagna tra i 50 e i 55 mila euro lordi all'anno. Si tratta dei soliti 145 mila, 150 mila circa, cittadini toscani che altro non sono che i giovani imprenditori, le partite IVA, le ditte individuali, i baristi, gli storatori, i liberi professionisti, gli avvocati, i commercialisti. Cioè quella fascia produttiva che esce dalla crisi, la regione toscana oggi li colpisce con un adeguamento dell'IRPEF, gli aumenta le tasse. E dall'altra parte si va a fare quella che noi abbiamo denominato legge Becattini, cioè quella legge che consente a chi è nominato presidente di una partecipata della regione di potersi accollare anche lo stipendio da amministratore delegato perché magari come presidente percepisce troppo poco. Questa variazione di bilancio è incomprensibile. Innanzitutto siamo a marzo e la regione fa una variazione di bilancio su interventi spot completamente slegati da una programmazione organica e coglie l'occasione essenzialmente di aumentare gli stipendi ai presidenti del consiglio di amministrazione che possono cumulare il reddito come amministratore delegato. Visto il periodo di grande incertezza e crisi economica riteniamo questa decisione veramente fuori luogo. E' anche un messaggio veramente sgradevole verso i cittadini che tutti i giorni sono a combattere con le difficoltà economiche, della mancanza di lavoro e tutto quello che sappiamo benissimo legato sia all'aumento dei costi e dell'energia che delle materie prime e anche delle derrate alimentari. Si tratta purtroppo ancora una volta di una serie di provvedimenti e di misure che vanno a interessare settorialmente alcuni territori. Quindi sono interventi isolati anche in questo caso privi di una sostanziale organicità. Stavolta però ci sono due misure sulle quali ci siamo soffermati anche in commissione. La prima che è l'aumento della pressione fiscale. E' innegabile benché ci venga come dire passato il concetto di un allineamento a livello nazionale dei provvedimenti di riduzione delle aliquote in realtà questa sarà una misura che impatterà e impatterà soprattutto su quei ceti medi che purtroppo in questo paese scontano evidentemente il fatto di essere coloro che in qualche misura sostengono il PIN nazionale. Ancora una volta si fa una scelta ben precisa. Oggi il cittadino toscano che magari ha una partita IVA, che magari fino a qualche mese fa aveva una trattenuta IRPEF del 41% guadagnando 50.000 euro, ad oggi non solo avrà ancora il carico fiscale appunto che magari è regato a una partita IVA ma avrà una trattenuta del 43% e un'addizionale regionale più alta. Questo è il quadro su una misura che comporterà per la regione toscana un aumento di circa 450.000 euro. Su questo avevamo cercato di neutralizzare proprio in virtù della contingenza economica che ci troviamo a vivere l'impatto immediato sulle tasche dei cittadini di questo emendamento. Questo non è stato possibile paradossalmente perché avremmo intaccato un fondo che va a preservare le perdite delle società partecipate. Con 20 voti favorevoli e 16 contrari, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il bilancio di esercizio 2020 della Fondazione Sistema Toscana, richiamando la necessità di indicare nel programma di attività gli investimenti da realizzare e la quantificazione delle risorse a ciò destinate. Il bilancio di esercizio 2020 della Fondazione Sistema Toscana registra un utile di 199.754 euro, in sostanziale invarianza rispetto al risultato dell'esercizio precedente. Un'approvazione un po' tormentata, molto contestata. In realtà l'unica pecca che ha è di essere un'approvazione tardiva perché era il bilancio del 2020 che ha avuto alcune vicende che hanno richiesto approfondimenti. Ma ad oggi il bilancio è, prima cosa, un bilancio inutile della Fondazione che quindi è un saldo positivo. È un bilancio che ha ricevuto alla fine tutte le approvazioni degli enti di controllo, gli organismi di controllo interni ed esterni. Ed è un bilancio che ha consentito di verificare per l'ennesima volta come questa fondazione sia un organismo indispensabile per le attività dell'ente regione toscana sui fronti della promozione turistica nelle sue connessioni con la promozione e il sostegno all'offerta culturale. Cioè si occupa di quella settore di cerniera che consente di trasformare la nostra identità culturale, il nostro patrimonio culturale in motori, generatori di offerta turistica e quindi di economie anche nel campo turistico oltre che nel campo della cultura. Il nostro voto è stato negativo. Infatti è emblematico che oggi, marzo 2022, si voti l'approvazione del bilancio di Fondazione Sistema Toscana del 2020. Ci sono state varie problematiche, infatti già a settembre sono state chieste integrazioni e modifiche che poi sono arrivate a gennaio, diciamo che è stato detto che le cose andavano bene. Abbiamo votato in commissione qualche giorno fa, è passato a maggioranza. Noi diciamo cosa c'è che non va in Fondazione Sistema Toscana, qualcosa c'è che non funziona. Lo dicevamo anche negli altri anni, va avanti con il 90% di soldi regionali, quindi è giunto il momento di fare una riflessione su questa fondazione e anche su Toscana Promozione, perché per certi versi si assomigliano e quindi secondo noi forse ci vorrebbe un'unica regia. Nel marzo del 2022 ci siamo ritrovati a votare il bilancio 2020 della Fondazione Sistema Toscana, che è una fondazione partecipata all'83% dalla regione toscana, quindi una fondazione quasi esclusiva proprietà della regione. e questo ci ha un po' insospettiti. Siamo andati a spulciare, a controllare come mai nel 2020 il bilancio dal 2020 arrivi a oggi e ci siamo accorti che quel bilancio intanto ha due pareri negativi ricevuti dalla direzione bilancio della regione. Non solo, guardando i bilanci ci siamo accorti per esempio che nel 2017, nonostante la regione abbia stanziato 5 milioni e 200 mila euro di denaro pubblico a Fondazione Sistema Toscana, ne sono serviti un ulteriore 620 mila per colmare un buco di bilancio. La Fondazione Sistema Toscana è la fondazione che deve promuovere la cultura, il turismo e l'integrazione in Toscana, quindi qualcosa di surreale, cioè che la fondazione che deve promuovere la cultura e il turismo, del luogo che forse ha più cultura e storia, tradizione e attrazione turistica del mondo, perda 600 mila euro all'anno. Il mio è stato un intervento proprio nel merito dei numeri perché qui ci sono poste che non tornano, sono interventi tecnici miei, ho cercato di spiegare all'aula che il credito IVA non può essere portato a fondo rischi perché è una partita di giro, il cui debitore è lo Stato, quindi più garantito di così non può essere un credito e quindi se viene portato a un fondo rischi vuol dire che c'è un problema e leggendo il bilancio mi sono accorta che l'Agenzia delle Entrate già nel 2017 ha dichiarato questo credito IVA inesistente, quindi è stato fatto un errore ed è specificato proprio nella relazione a pagina 74, chi vuole andare a vederlo lo può vedere, che è stata considerata detraibile l'IVA su spese di missione, le spese di missione sono spese di viaggio, ristoranti e hotel, esiste una legge dello Stato che dice che l'IVA su queste spese è indetraibile, ora mi domando come una fondazione possa fare un errore simile, questo è stato appurato nel 2017, tutt'oggi questo credito IVA è in bilancio, quindi vorrei capire quando verrà portato a perdita e verrà sistemato il bilancio. Grazie per la visione!